Da bravissimi stopper abbiamo anticipato il patron dottor Trevisan per questo meraviglioso Chieti, un 4-0 che lancia un messaggio fondamentale alle avversarie soprattutto. Diciamo che noi domenica per domenica e oggi mercoledì partita per partita stiamo affrontando questo campionato cercando di dare il massimo e oggi devo dire che la squadra ha dimostrato di avere una forza mentale di gioco importante perché l'Avezzano non l'avevamo sottovalutato e anche durante la partita è stato in campo per 90 minuti con la massima determinazione, poi è chiaro che sul 3-0 hanno un po' rallentato il ritmo, abbiamo fatto il quarto gol e quindi siamo stati tranquilli. Comunque va dato merito anche agli avversari che nonostante il risultato rotondo hanno disputato un ottimo match, è chiaro che il Chieti oggi è stato evidentemente superiore in tutto. Dal primo minuto, dal primo secondo della gara il Chieti ha dato subito l'impressione di essere più forte, non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche la freschezza ha fatto la differenza, secondo me tutti in forma, tutti i giocatori che hanno dato il massimo e Lucarelli che anche nei cambi per l'ennesima volta non ha sbagliato nulla. Deve continuare così ovviamente il Chieti. Quale potrebbe essere il pericolo, dottor Treviso? Il pericolo secondo me in questi momenti è quello di pensare di essere estremamente superiori agli altri e quindi pensare di avere vita facile. Questo è un campionato che per formula e per caratteristiche è difficilissimo. Le partite devi provare a vincerle tutte e devi poi sperare che i tuoi avversari inciampino in qualche errore, qualche partita meno positiva. Però direi che secondo me l'unico pericolo è la deconcentrazione perché la squadra c'è, si allenano con grande intensità, fisicamente stanno tutti bene e quindi è chiaro che noi vogliamo mantenere questo ritmo e questo livello fino alla fine. A fare i spenti senza clamori, l'Angolana è lì a tallonarvi insieme all'Aquila anche se l'Angolana ha una gara in meno. Se l'aspettava? Sì, sinceramente sì perché dagli acquisti fatti dall'Angolana sapevamo che sarebbe stato un osso duro poi diciamo che questa formula di poter scegliere un po' i giocatori delle altre squadre ha fatto sì che chi ha fatto mercato con attenzione, l'Angolana secondo me ha una grande dirigenza e ha un management sportivo di alto livello, un ottimo allenatore tra l'altro, ha fatto in modo che approfittasse anche lei di questa formula e devo dire che siamo coscienti, lo eravamo fin dall'inizio che sarebbe stato un osso duro per questa vittoria. Dottor Trevisan, però la classifica parla in modo chiaro, inequivocabile, ora il Chieti è padrone del suo destino perché è lì davanti e deve naturalmente continuare a correre. Quanto ci credete dopo questo 4-0? Ma noi, devo essere sincero, noi ci abbiamo creduto fin dal primo momento, però come hai giustamente detto tu, non abbiamo vinto il campionato, è una vittoria corroborante anche a livello psicologico, però la forza di questa squadra deve essere di giocare tutte le partite a questo livello perché se giocherà tutte le partite a questo livello sicuramente saremo protagonisti fino alla fine. Se invece pensiamo di aver raggiunto dei risultati per cui possiamo un attimo rilassarci, non andremo da nessuna parte. Quindi le vittorie sono belle, vanno godute nel momento in cui avvengono, ma poi devi ripartire dal giorno dopo con la stessa intensità e lo stesso impegno che hai messo fino ad oggi. Questa squadra, il mister, come hai detto giustamente tu, ha azzeccato i cambi e quindi ha cambiato il volto della partita del secondo tempo mettendo in sicurezza il risultato. Credo che sia l'aspetto importante da cui ripartire, cioè non una squadra di 11, bensì è un gruppo importante di 27-28 giocatori, molto uniti tra l'altro ai loro, perché a differenza delle esperienze passate questo è un gruppo vero, quindi è un gruppo che se tutto andrà bene starà a chiedi per tanto tempo. Domanda secca, dottore, risposta secca cortesemente perché siamo ovviamente in diretta. Sotto la nostra postazione in ordine Trevisan Mergiotti e il direttore Paciarella, il merito va a questi tre, alla triade come l'ho chiamata in diretta o c'è qualche personaggio che a fare i spenti ha dato una grossa mano? Il merito secondo me è di tutti, in primis io dico è del capo, quindi è del Presidente, poi il Presidente come chi mi conosce sa come organizzo il mio lavoro e le mie attività, il Presidente ha fatto un ottimo lavoro, quindi il merito principale di quello che sta accadendo è del Presidente, poi è chiaro che il Presidente è stato molto bravo a scegliere dei collaboratori, a organizzare il lavoro, lavora attivamente per raggiungere i risultati, è chiaro che poi il merito è di tutti, dal massaggiatore al fisioterapista, dal preparatore atletico al magazziniere perché noi siamo una grande squadra e con un grande capo perché abbiamo un grande Presidente. Dottore se parla con l'autista e fa ritardare a lui la ripartenza, così blocco gli altri come ho bloccato lei e mandiamo tutti in diretta, grazie a Giulio Trevisan, sempre disponibilissimo ai nostri microfoni. Buona serata a tutti, grazie a te.